ciao ragazzi ciao ragazzi eccoci qua in un nuovissimo video come vedete dal video oggi vi farò vedere un altro cofanetto ma questa volta della lancome prima però di iniziare con il video vi invito a iscrivervi al mio canale se vi fa piacere attivare la campanellina che trovate qua sotto così che ogni volta che carico un video vi arrivano le notifiche e direi di partire con il video ecco qui ragazze la pochette della lancome si presenta così il colore è un fuzia anche se si vede non so se si riesce a vedere bene si vede rosso ma in realtà è un fucsia come vedete troviamo due apertura una da questa parte e l'altra da questa parte il cofanetto qua troviamo due pochette una più piccola e l'altra che è un po più grande ve la apro e vi mostro allora da questa parte della apro e anche da questa parte qua vedete che appena li ho aperte si sono divise ecco qua quindi una pochettina più piccola che questa così si divide proprio in due questo questo cofanetto guardate che meraviglia ma che wow fantastica questi sono i primi prodottini che ci sono in questa prima pochettina il primo prodottino che troviamo in questa pochettina qui e questo qui genefic geox quindi è una crema per gli occhi lisciante attivatrice di giovinezza e un formato piccolino il secondo prodottino e questo fantastico profumo che adoro tantissimo e la ville la via belle mi piace da morire questo profumo ce l'ho in formato grande e ve lo consiglio tantissimo perché ha una fraganza molto buona molto sensuale quindi ve lo consiglio molto questo profumo qui della via belle un altro prodottino troviamo questa bellissima mattita qui le crayon col è una matita occhi ea 1,8 grammi altamente sfumabile e cremosa quindi ea una intensa pigmentazione anche se vede piccola qua ma è enorme ragazzi quindi vi dura tantissimo penso un altro prodottino che troviamo è questo mini fard della lancome e questo è il colore qua il 351 blushing tresor il colore che troviamo in questo fart e questo colore qua è tipo un pesca brillantinato e un altro prodottino che troviamo sempre in questa prima pocettina e questo latte corpo la via belle quindi questo latte corpo con estratto di papa reale fiori d'arancio e gesto di minino quindi regala la pelle idratazione e nutrimento quindi si assorbe rapidamente e dona il corpo una fraganza molto femminile è molto molto dolce e guardate invece quello che ho nelle mie mani questa meravigliosa palettina qua il suo packaging riflette uno specchio praticamente che abbiamo qua sopra e dietro è così mi avvicino un attimo ecco qua questa è la palettina qua l'assolut rouge lip palette holiday edition 2019 ragazze io pensavo fosse una palettina per gli occhi invece è una palettina con i rosetti qui ci sono tutti i rosetti dai più caldi ai più neutri e un po più delicati come come rosetti sia questo che l'altro che dall'altra parte quindi è un set di rosetti e mi dimenticavo di farvi vedere che all'interno troviamo lo sfumino il pennellino per applicare i nostri rosetti non vi faccio lo swatch perché sennò perdiamo tantissimo tempo su questo video ragazzi in questo cofanito qua ho trovato questo sacchettino qua che ci sono delle palline non so se avete mai notato questo sacchettino qua non votatevi un consiglio non votatele perché serve questo sacchettino serve a aiutarvi ai vostri ai vostri ai vostri trucchi per una lunga durata quindi non votatele mettetele insieme ai vostri trucchi passiamo ora alla seconda trust di questo fantastico cofanetto lancome come vedete c'è scritta lancome paris wow ragazze guardate che meraviglia wow io questi cofanetti veramente li adoro perché si risparmia tantissimo cioè tanto 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 ragazze se veramente volete regalare qualcosa magari un prodottino cioè pensateci veramente mille volte perché con questi cofanetti ci risparmiate un botto ragazze cioè guardate che bellezza e poi in più vi regalano anche i cofanetti che sono bellissimi anche da utilizzare per altre cose per quello che volete il primo prodottino che troviamo in questa seconda trust è questa fantastica crema la renergy multi lift ultra questa crema è una crema giorno anti arrughe è rassodante è una triplazione la pelle risulta più soda di stessa e luminosa quindi protegge la pelle dalle effetti esterni ha una consistenza morbida e si assorbe piacevolmente sulla pelle il secondo prodotto è questo tonico comfort questo tonico elimina tutte le impurità offre un comfort e una idratazione sulla pelle quindi la pelle risulta levigata morbida al tatto adatta per pelle secche da utilizzare mattina e sera è un altro prodottino che troviamo in questa fantastica truce e questo rossetto qua della lancome e il numero e vi dico subito se si mette a fuoco ecco qua il 368 rose lancome lo apriamo si schiaccia così ebola e la tonalità di questo bellissimo rossetto è questo qui che non si riesce a vedere ma non è rosso ma è un bellissimo fucsia un fucsia chiaro molto bello un altro prodotto fantastico che troviamo in questa truce è questo strucante occhi rimuove il make up in modo semplice e veloce con una formula adatta anche per occhi sensibili e coloro che indossano le lenti a contatto quindi rimuove anche il mascara resistente all'acqua senza alcun residuo olioso elimina tutti i tipi di trucchi e è adatto anche per tutti i tipi di pelle e l'ultimo prodottino che vi ho lasciato per ultimo e che direi che il puzzle di questo fantastico cofanetto è questo siero qua della lancome genifique avancet quindi questo siero ha una nuova composizione rinnovata combatte i segni visibili dell'invecchiamento cutaneo levica efficacemente le rughe rossota i contorni e uniforma il tono e la consistenza della pelle quindi va messo sia mattina e sera sulla pelle pulita ragazze anche per oggi questo video è arrivato alla fine vi lascio con questa fantastica ripresa spero che questo video vi possa essere stato di aiuto vi auguro delle fantastiche feste e ci vediamo molto presto un bacio immenso a tutti i miei iscritti e ai nuovi iscritti un bacione grande da me a tutti i miei iscritti